Siamo con Salvatore Bordonaro, docente del Liceo Giovio di Como, per parlare di scuola in questo periodo in cui la pandemia da Covid-19 sta colpendo duramente la Lombardia e in particolar modo il Lario. Qual è la situazione? La situazione è quella che sostanzialmente emerge dalle cronache, quindi scuola dell'infanzia e scuola primaria sono in presenza, quindi bambini e insegnanti in aula tutte le mattine, salvo quei casi in cui intere scolaresche finiscono in quarantena, perché il dilagare di questo contagio è veramente consistente. Sono invece praticamente a casa tutti gli altri, la scuola secondaria e superiore in particolar modo, in modo massiccio, con il ripiego sulla didattica a distanza. Ha parlato di didattica a distanza. Rispetto alla scorsa primavera si sono superati i numerosi problemi che si erano riscontrati? Diciamo che la fase pionieristica è stata superata sicuramente con il forte senso di responsabilità da parte del personale docente che si è impegnato nel cercare di maturare un approccio adeguato al tipo di problematica. è molto più strutturata in termini di orario e quindi è molto più ben organizzata dal punto di vista della cadenza oraria settimanale, è molto meglio strutturata anche per la tipologia di attività che si svolgono, comprese le verifiche che forse sono il momento più problematico. Quello che resta invece particolarmente critico è il contesto della rete che non va, nel senso che tutta questa situazione sta portando a galla e quindi ha seconda delle stati utenti degli spiegati che si svolgono a interesse, quindi non abbiamo sostanzialmente delle autostrade informatiche particolarmente adatte a supportare tante connessioni contemporaneamente. contemporaneamente, per cui la maggior parte delle difficoltà adesso è più che mai evidente che risiedono proprio nell'infrastruttura della rete Internet. A livello di apprendimento dello studente, qual è il deficit che paga la didattica a distanza rispetto a quella in presenza, indipendentemente dalla mancanza del rapporto umano tra docente e studenti? A me viene da ridere perché gira una battuta su WhatsApp, una vignetta in cui si prefigura un domani in cui opereranno degli specialisti che avendo perso parecchie occasioni di formazione potrebbero non essere poi così specialisti come vengono presentati. E' una battuta perché fondamentalmente quello che colgo io è che c'è molto senso di responsabilità anche da parte degli studenti in generale, perché poi i birichini ce li abbiamo in tutte le fasce d'età e fondamentalmente direi nella fascia d'età intermedia probabilmente, quella che d'altra parte sta soffrendo per quello che ho già detto in altre occasioni anche qui davanti alle tue telecamere è quella che sta soffrendo di più per questa stagione particolarmente pesante dal punto di vista delle circostanze in cui rinchiude gli adolescenti. Dicevo grande senso di responsabilità a parte gli studenti che stanno partecipando direi ad un livello piuttosto interessante alla proposta didattica, ma io direi anche un buon senso di responsabilità a parte delle famiglie. Io posso raccontare, posso testimoniare di genitori che si sono premurati ad avvisare gli insegnanti sulle difficoltà, soprattutto tecniche da parte degli studenti con l'impegno praticamente di risolvere quelle difficoltà. Quindi famiglie che si sono impegnate nell'acquisto dei computer, delle webcam, famiglie che si sono attivate per avere patente dei collegamenti a internet più performanti. Quindi direi che il contesto in generale esprime grande senso di responsabilità. Poi come dicevi tu giustamente non è la stessa cosa, nel senso che la scuola è fatta di relazione, la scuola è un mondo di relazioni talvolta anche molto complesse e da questo punto di vista il prezzo che rischiamo di pagare è soprattutto in termini di affettività, quindi in termini di relazione umana ed è però la relazione umana che predispone al miglior apprendimento. Tutti sono concordi che la scuola abbia fatto molto dopo la prima ondata per garantire agli studenti un ambiente sicuro. Bisogna però constatare che l'impernata dei contagi da Covid è avvenuta proprio a ridosso dell'inizio dell'anno scolastico. Che cosa quindi non ha funzionato? Beh, tu hai detto una cosa molto bella, molto vera, nel senso che la scuola ha praticamente trascorso tutta l'estate riflettendo nei suoi organi, nel suo personale eccetera eccetera, anche alla luce delle direttive che sono arrivate in qualche modo indicazione del Comitato Tecnico Scientifico Nazionale. La scuola ha lavorato per prepararsi alla riapertura e l'applicazione dei protocolli devo dire è stata abbastanza precisa, abbastanza rigorosa in tutte le realtà. Per certi versi praticamente non comprendiamo sostanzialmente il fatto che si sia frettolosamente deciso di inibire la presenza degli studenti, però tante queste indicazioni non nascono in autonomia nelle scuole, sono indicazioni che arrivano da istanze superiori, quindi il decreto del Presidente del Consiglio piuttosto che le ordinanze che vengono emesse dai governatori e quant'altro. Dove è successo, dove è capitato, dove è accaduto che si sono in qualche modo generate le condizioni perché il contagio dilagasse? Vorrei ricordare i tuoi spettatori che nello stesso tempo della riapertura delle scuole hanno ripreso le attività, i gruppi sportivi, le scuole calcio piuttosto che gli allenamenti per i vari tornei etc. e ti posso testimoniare praticamente che in quei luoghi, palestre, luoghi chiusi in particolar modo, poi non vorrei tirarmi addosso come dire le ire dei gestori etc. però è un dato di fatto che in quei contesti praticamente si sono generate condizioni di forte esposizione al rischio del contagio. Poi c'è il problema dei trasporti, anche se ad onor del vero la domanda da porsi è ma potevano fare di più? Quello che risulta a me è sostanzialmente che ci sia stato veramente uno sforzo enorme anche da parte sostanzialmente delle agenzie che curano nel trasporto pubblico locale, il problema è fondamentalmente di risorse, non ci sono state le risorse necessarie a potenziare i servizi, non c'è stato un impegno, non c'è stato un investimento in questa direzione se non a macchia di leopardo, se non sporadico, se non abbastanza marginale e quindi gli autobus nella prima fase del rientro alle attività lavorative scolastiche, gli autobus sono risultati davvero, come dire, le solite scatolette di sardine dove la gente si è accalcata e dove praticamente l'esposizione al rischio è cresciuta in modo diciamo consistente. Che cosa ci dobbiamo aspettare per il futuro? Entro la fine dell'anno si potrà ritornare tra i banchi di scuola o si dovrà rimandare tutto nel 2021? Io immagino sostanzialmente che si possa e si debba ritornare in classe, poi ovviamente il come e il quando ce lo diranno, ma io me lo auguro perché, ripeto, c'è soprattutto da, come dire, in qualche modo coinvolgere, tornare a coinvolgere, rimettere sui binari giusti soprattutto gli alunni più fragili, quelli che stanno soffrendo di più per la didattica a distanza e sono gli alunni, come dire, più fragili sul piano scolastico in generale del rendimento etc., sono gli alunni che, come dire, sono più esposti al rischio praticamente di disperdere le proprie energie, la propria concentrazione dietro una webcam e sono gli alunni praticamente più fragili dal punto di vista emotivo quelli che sentono moltissimo la mancanza del maestro, dell'insegnante che in qualche modo li aiuta praticamente a, come dire, conquistare, riconquistare quella sicurezza, quelle posizioni e quindi quel successo scolastico che lasciati a se stessi invece è a rischio di poter svanire. Ringraziamo il professor Bordenaro per la sua gentile presenza nei nostri studi e lo invitiamo sin da ora a tornare a trovarci per tenerci aggiornati su tutti i futuri sviluppi che riguarderanno la scuola. Buona serata a tutti voi, grazie.